Lo dicevamo in apertura di trasmissione, domani scattano nuove norme, nuovi divieti sul fumo. Si cerca soprattutto di proteggere dal fumo passivo, ma ovviamente anche di disincentivare l'uso di sigarette e tabacco. Vediamo insieme una scheda e poi torniamo in studio con il nostro ospite. Si parte domani a Milano come nel resto d'Italia, a preoccupare di più le multe per chi getta le sigarette a terra dopo averle fumate. Mi dà fastidi veramente. Tutte queste cicche in terra. E tutte queste porcarie che si vede in giro non va bene. Da una parte è anche giusta, in maniera che la gente non butti più mozziconi per strada e via dicendo. Perciò è un discorso di correttezza, basta che ci siano però portaceneri in giro da parte del comune e altre cose. Tabaggisti divisi invece sui nuovi pacchetti con le immagini degli effetti del fumo sull'organismo. Posso dire che molte persone so che o hanno iniziato a fumare meno o hanno smesso di fumare per le immagini. Perché le colpiva. Io personalmente non ho cambiato abitudini. È già molto toccante quanto è scritto sopra. Da fastidio veramente. Io non sono d'accordo. Infine i rivenditori spaventano le sanzioni fino a 3.000 euro per chi vende tabacco ai minori. Penso che sembriamo pagare solo noi sul fatto che a volte alcuni ragazzi nella fretta non si riescono a controllare bene bene. Perché non si può chiedere documenti a tutti quanti e non siamo noi, dovremmo farlo. Ci proviamo. In ogni caso tutti i fumatori si dicono d'accordo con i nuovi divieti. È giusto che ci siano delle regole. È giusto però... Io fumo. Eccoci in studio. L'abbiamo presentato in apertura. Buongiorno al dottor Roberto Boffi. Buongiorno. Buongiorno. Dicevamo primario di pneumologia all'Istituto Nazionale dei Tumori e poi appunto si occupa del centro antifumo. Ricordiamo allora cosa cambia in sintesi da domani. C'è una stretta sulle normative attualmente vigenti con l'introduzione a legge Sirchia dal 2005 sia sul fumo passivo che sulla vendita del tabacco e delle sigarette elettroniche. Per quanto riguarda il fumo passivo, i cambiamenti più significativi sono l'introduzione del divieto dei cortili all'aperto degli ospedali, in particolare vicino alle reparti di pediatria, perché i bambini sono naturalmente cosiddette categorie sensibili, quindi più a rischio per il fumo passivo, e il fumo in macchina, almeno in presenza di donne incinte e di minori. Lei ha citato la legge Sirchia che ormai ha una decina d'anni. Quali sono stati gli effetti? Ricordiamo ovviamente il provvedimento principale fu il divieto di fumare nei locali pubblici. Quali sono state le conseguenze? Sono state conseguenze positive nell'introduzione di questa normativa? Assolutamente, e già dopo pochi mesi. In particolare uno studio di epidemiologi piemontesi, il collega Barone Adesi, ha pubblicato che già a cinque mesi dall'introduzione alla legge antifumo c'era stata una riduzione degli accessi in pronto soccorso in Italia per motivi cardiovascolari, principalmente per infarti dell'11%, quindi c'era stato un beneficio sulla salute, quindi anche sui costi, tra l'altro, del servizio sanitario, già dopo meno di un anno. E questi naturalmente si sono poi ulteriormente accentuati nell'arco degli anni, in particolare sull'incidenza dei tumori dovuti al fumo passivo. Lei si occupa proprio di questo campo, in campo sanitario, delle malattie legate, anche delle malattie legate al fumo, quali sono i rischi? Noi abbiamo aperto il centro antifumo nel 2001 e devo dire che è stato il primo centro antifumo in Italia a occuparsi anche dei fumatori passivi, in particolare degli asmatici e delle asmatiche. Il 25% delle persone che sono venute il primo anno al nostro centro antifumo, erano proprio fumatori passivi, perché per la prima volta qualcuno si occupava anche di loro, e in particolare di chi soffriva di malattie respiratorie, allergie, riniti, asma, tosse in generale. E quindi abbiamo consegnato anche decine di lettere di diffida per i datori di lavoro, perché allora c'era ancora la 626 e basta per consigliare di non fumare nei luoghi pubblici. Con l'introduzione della legge antifumo c'è stato veramente un grosso cambiamento. Una rivoluzione anche in qualche modo culturale. Sì, e devo dire che la maggior parte dei fumatori ha dimostrato non solo di rispettare ma di gradire la legge Sirchia, e quindi penso che anche questi decreti avranno lo stesso positivo effetto. Ecco, invece per quanto riguarda i fumatori, questo tipo di norme hanno degli effetti sulla popolazione dei fumatori? Si è ridotta? Si è sempre visto in letteratura, anche nel resto del mondo, diciamo che quando c'è l'introduzione dei divieti, delle leggi antifumo, c'è una parte di fumatori che ne approfitta, vuole cogliere l'occasione per cercare di smettere di fumare. Forse non abbiamo fatto abbastanza. Direi che con questo decreto ci sono invece un giro di vite anche sull'aspetto delle vendite del tabacco, in particolare l'introduzione delle immagini shock colorate. Sui pacchetti, ecco. Nei pacchetti che devono avere almeno 65% di spazio del pacchetto, sia davanti che dietro. È stato visto già all'estero, in particolare in Australia, che su una certa categoria di fumatori, in particolare i giovani, può avere un impatto. E questo alle multinazionali del tabacco dà molto fastidio, quindi significa che sicuramente può essere una strada buona. Vuol dire che può avere un effetto positivo. Senta, qual è l'identikit? Quanti sono e quali sono i fumatori in Lombardia? Beh, in Lombardia si fuma tanto come si fuma tanto in Italia. Siamo purtroppo quasi a 11 milioni di fumatori e gli ex fumatori sono in Italia 6 milioni e mezzo, quindi poco più della metà. E questo dimostra che ancora di più potremmo e dovremmo fare per aiutarli a smettere di fumare. Se si pensa che in Inghilterra, dove peraltro i farmaci antifumo sono gratis e ci sono moltissimi centri antifumo più che da noi, gli ex fumatori sono il doppio che i fumatori. Quindi dimostra questi numeri che si dovrebbe fare di più. In Lombardia lo stesso, i fumatori sono molti e si fuma molto anche nell'età dei minori. Quindi sarebbe importante riuscire a intervenire soprattutto su chi inizia a fumare. A 15 anni è l'età che noi facciamo gli interventi nelle scuole, soprattutto ai primi due anni superiori. A 15 anni uno su tre ha già provato a fumare e uno su cinque, quindi 21% in Lombardia, quindi una percentuale leggermente superiore al resto d'Italia, è un fumatore già abituale. E quindi ad esempio la scomparsa, la messa al bando dei pacchetti piccoli e da 10 sigarette e le multe pesanti alla vendita del tabacco ai minori, ma anche di pubblicità e di vendita delle sigarette elettroniche ai minori, secondo me sono delle norme molto importanti. Bene, d'accordo. Grazie allora al dottor Roberto Boffi per essere stato con noi. Grazie a tutti.